Ma un secondo solo, no dai dai dai, un secondo, un secondo solo veramente, lo diamo soltanto, una cosa carina dai, per la televisione, eh lascia perdere, scusami, un secondo solo, scusami Alain, ho un omaggio simpatico per te, fatto da un artista del posto, è il profilo, tuo profilo, fatto da un artista del posto. Prego, prego, un profilo, fatto da un artista del posto, rispondi a questo signore, che voi ti devi fare, è un regalo, è un regalo, è un regalo, buon viaggio, arrivederci, buon viaggio, grazie. Tutto, tutto, filmo il tema, filmo il tema, filmo il giorno, filmo, filmo il giorno, fatto da un artista del posto, buon viaggio, buon viaggio. Sì! 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 Sì!